Il tre campanili accoglie Samp e Sassuolo nella sesta giornata della pool salvezza, oggi la Samp si gioca la possibilità di uscire dalla zona rossa di classifica, il Sassuolo, la matematica, certezza di salvezza. Baldi calcia con destro sul secondo palo, Gagò anticipata, palla che resta lì, Bonfantini può girarsi, non lo fa, lo fa adesso Bonfantini, centrale per Cresce, è la prima conclusione del match. E nuovamente Filangieri in verticale, Brignoli apre d'esterno dove c'è Davina Filgens, spazio davanti a sé, Filgens pensa al mancino, calcia Filgens, palla sul fondo, dal nulla ma si è accesa il Sassuolo col sinistro di Davina Filgens. Filgens, per non pensarci due volte, ha caricato il mancino con una traiettoria destinata in fondo al sacco di Poco. Spinelli lancia col mancino per Gagò, la palla che resta buona per Derita, che non inquadra lo specchio, grande occasione per la Samp sulla spizzata di Kelly Gagò. Eccola la palla che viene spizzata da Gagò per Derita, imposta per il Sassuolo, a larga sinistra dove c'è Playdrop. Il cross col mancino, dintro all'area per Clelland, la girata di testa è facile per Tampieri, nel primo squillo nella ripresa finta il destro, poi si appoggia in avanti. Ottima cobertura e anticipo di Spinelli che accompagna la ripartenza, ha spazio davanti a sé, è isolata, Spinelli vuole andare fino in fondo. Si appoggia poi a Kelly Gagò, dal limite, Gagò pensa al mancino, calcia a Gagò, strepitosa, cresce in calcio d'angolo, allunga la traiettoria sul mancino. E poi questa traiettoria molto insidiosa, alzata quanto basta dalla manuna di Cresce. Riparte da Playdrop, imposta di testa per Lana Clelland, dentro l'area, Clelland calcia col destro, c'è una deviazione con il braccio e quindi calcio di rigore. Rivediamo il destro di Clelland, il braccio largo di Pettenuzzo. Mancano sei minuti, poco più, il Sassuolo ha il pallone sul dischetto con Clelland, Tampieri, Clelland calcia dentro la porta e porta in vantaggio il Sassuolo. Il gol che potrebbe valere la salvezza è quello di Lana Clelland. Non è bastata la risposta di Tampieri, Clelland si è ritrovata, il pallone tra i piedi e ha calciato diritto per dritto. Sterza su Sciabica trova Rincon, che non controlla. E poi Clelland a Praterie, davanti a sé, Lana Clelland punta Pettenuzzo che ha munita. Clelland, sterza sul mancino, Clelland! Un gol meraviglioso, è quello che sancisce la salvezza del Sassuolo. Meraviglioso, il gol di Lana Clelland è 2-0 nel finale. Pettenuzzo, malagra ripartenza guidata prima da Filangeri. Questa gran pala in verticale poi, metri davanti a Lana Clelland che se li prende tutti. Brucia Pettenuzzo e con un mancino perfetto alza una traiettoria imprendibile per Tampieri. 2-0 il Sassuolo, sa essere micidiale. Riparte da sinistra il Sassuolo, ma non c'è più tempo! Il Sassuolo vince e conquista una meritatissima salvezza. L'anno prossimo sarà per la settima stagione consecutiva in Serie A. L'anno prossimo sarà per la settimana.